Pronti per presentare il gruppo di Rodizia Richback Gascon Santonjois Segucci Italiani a pelo forte Bigger Harrier Ed è tutto per i gruppi di allevamento E parte nuovamente il famoso jingle Abbiamo una probabilità del 75% di salire sul podio Bigger Harrier Segucci Italiani a pelo forte Gascon Santonjois Segucci francese E quindi Rodizia Richback Grazie a tutti Grazie a tutti Una razza molto rara da vedere in esposizione Si classifica al terzo posto Bigger Harrier Al secondo posto Segucci Italiani a pelo forte Vince Vince Il gruppo di Rodizia Richback Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti